Sono Alce Zappalà e oggi siamo in un nuovo video. Faccio questo video al volo per dirvi che ho realizzato un mini mini blog sul mio canale YouTube. Spero che vi piaccia, ci ho messo un po', parlo un po' di me, parlo un po' del canale, parlo insomma di... Ho caricato dei video sul blog che ho fatto, lo trovate in descrizione e spero che vi piaccia perché ci ho messo tanto impegno a farlo. Bene ragazzi, con questo breve video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, Attivate la campanellina delle notifiche Fatemi sapere cosa ne pensate di questo mini mini blog Mini blog che ho fatto E noi come sempre ci rivediamo a un prossimo video Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!